Morgan, dove stai andando? Non potrai usare la capsula d'emergenza di Alex senza... Aspetta, chi sei? Identificarsi, prego. Morgan, sono January. Quell'operatore era un modello obsoleto e difettoso. O anche peggio. Alex, i Typhoon, sono tutti contro di te. Fidati di te. Fidati del video che hai registrato. Dobbiamo trovare le chiavi d'innesco e distruggere Talos One prima che sia troppo tardi. Un'elevata micro-davida. Operatore in movimento. Queste gallerie corrono lungo tutta la stazione. Si tratta di condotti per il trasporto di corrente, acqua e aria. Ma gli operatori le usano anche per trasferire merci dall'hangar di carico su fino al giardino botanico. Data la scarsità di personale in questa zona, mi aspetto una presenza minima di Typhoon. Ma potrei anche sbagliarmi. Aspetta al Grazie a tutti. 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 Riparo. Ondata di plasma tra... 5... 4... 3... 2... 1... Grazie a tutti. 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 Integrità tutta danneggiata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. La mia squadra è nell'angar di carico, ma ci sono anche quelle cose. Hanno invaso tutta la stazione. Controlla tutto quello che hai intorno. Controlla tutto quello che hai intorno. Colpiscilo con una chiave inglese. Ma prima controlla la chiave inglese. Sam ha ragione. Grazie a tutti. 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 Sei arrivata. Ben fatto. L'ingresso dell'archivio è oltre il giardino botanico. Quassù c'è anche l'ufficio di tuo fratello. Giove nel suo palazzo nei cieli. È così che lo definivi alle sue spalle. Di conseguenza tu saresti chi? Giunone? No, è un'idea spiacevole. Non è un'idea spiegezione. Non è sempre più прaglio. all'all Näche. No, è un'idea spesino müsato. Non è un'idea spesso innamorale. non ho appena. Grazie a tutti. All'ann吐ल per la natità. Istavano perdere i nostri sp коppi. Non è uno di un diangel... Grazie a tutti. 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 nuovo attivo. Quel Typhoon aveva manomesso sia l'hardware che il software di sistema. A livello di codice macchina, lo sto riprogrammando al volo. Affascinante e preoccupante. Posso sistemare il codice. Dovrebbe bastare. Se devi spostarti rapidamente fra i tre punti principali di Talos One, prendi l'ascensore. Si ferma all'altezza della lobby e giù al supporto vitale. Questa è la scuola. Sì, vedi vederla? Diagnosi, sembra che abbia avuto una giornata più presto, definitivamente. Fatto. Per favore, compili il questionario per pazienti per migliorare il servizio offerto. Scansione completa. Richiesti ulteriori campioni. Scansione completa. Scansione completa. Scansione completa. Scansione completa. Sì, Sì. Sì, Sì, Sì. Sì, Sì, Sì. Ivey, che c'è? Come va? Non riesco ad aprirla. Dov'è? Non risponde. Cos'è che non va? Daniel ha codificato la serratura con la sua voce. Per entrare dovrebbe essere lei a pronunciare la parola chiave. E se usassimo dei campioni vocali? Registrazioni sul transcribe? Sì, se contengono parole necessarie. Oppure si potrebbe mappare la sua voce con un elenco di vocali e consonanti e testare dei modelli. Vedo di recuperarla. Ho il suo transcribe. Guarderò nella sua stanza. D'accordo, Ivey, ma non fare sciocchezze. Ivey? Ivey? Merda! Merda, Daniel, dove sei? Dubito che il capo show sia ancora viva. Consiglio di seguire la strategia di Zachary West. Assemblare campioni vocali. Il tuo transcribe è dotato del software necessario. È così che hai creato la mia voce. La cabina di Daniel sarà un buon punto di partenza.